Cosa siamo venuti oggi a festeggiare all'alberghiero? Oggi abbiamo aperto la nostra scuola al territorio. Già siamo alla terza edizione di questa attività in forma versa e abbiamo associato alla chiusura di tutte le nostre attività, la chiusura di questo progetto in forma versa, anche la chiusura delle attività previste dai PON realizzati quest'anno. Abbiamo voluto questo evento qui a scuola da noi, proprio per far conoscere la nostra realtà. Quest'anno per invoversi i ragazzi si sono interessati nel cammino delle compraterne, continuando un percorso iniziato circa già tre anni fa, prima con le piazze, poi con le chiese e adesso con le compraterne. Questa è testimonianza che la nostra è una scuola non solo del fare, infatti lo stesso tema della serata, storia, arte e gastronomia, sta a significare che a fianco, accanto alla preparazione laboratoriale, al fare, abbiamo una valida formazione culturale per questi giovani. Quindi oggi ci sarà la presentazione più uno splendido buffet che vediamo qui alle nostre spalle, fatto da loro. Alla fine, infatti dopo la presentazione dei lavori che i ragazzi faranno per ciò che hanno realizzato nel corso dell'anno, ci sarà questo splendido buffet dove tutti potranno assaggiare i prodotti preparati dai nostri ragazzi con la guida dei loro docenti. È diventato quasi un'abitudine ad aversa, quindi un appuntamento fisso quello che finiranno qui all'alberghiero. Sicuramente, perché quasi ci sentiamo adesso in obbligo, in dovere di organizzarlo perché tutti aspettano la festa dell'alberghiero, l'evendo conclusivo dell'alberghiero. Io adesso quest'anno sono particolarmente soddisfatta, anche perché ho visto il modo di lavorare, cioè ho visto come tutti hanno partecipato a che questi eventi si realizzassero. Considerato la struttura, perché noi non è che abbiamo una struttura idonea per questi eventi, però nonostante ciò c'è stata la collaborazione di tutti. Il segno del forte sentito di appartenenza che il personale ha a questa scuola, iniziando dai ragazzi, per non parlare poi del personale sia i collaboratori scolastici, amministrativi, degli assistenti tecnici, dei docenti tecnico-pratici e non ultimi, dei docenti delle varie discipline. Senza la loro collaborazione, sicuramente tutto questo non sarebbe stato possibile. E questa per me è una grande soddisfazione, veramente. Devo dire grazie soprattutto a loro, se stasera possiamo vivere questo momento particolare. Queste sono tutte le tecniche che abbiamo utilizzato durante il concorso. Questi sono i prodotti dei ragazzi. La poesia visiva, la manipolazione del testo, dal testo di narrativa al fumetto, dal testo di narrativa al testo teatrale. Abbiamo manipolato i due testi, la patente e la giara di Pirandelli. Inoltre abbiamo fatto gli incontri impossibili, il punto di vista e tante altre cose. La poesia visiva però l'ha curata lei, la professoressa Beatrice Leppi. Sì, abbiamo cercato di stimolare i ragazzi alla composizione di poesie attraverso esempi di autori e poeti conosciuti. Ed il risultato è quello che hanno poi rappresentato con il Powerpoint. Poi possiamo passare ad altri progetti sviluppati all'interno del nostro istituto, come l'alimentazione va in scena. E la sana alimentazione. Un opuscolo questo realizzato dai docenti coinvolti nel PON in questo percorso e per dare dei suggerimenti agli studenti su quello che è giusto mangiare e quello che invece è sbagliato. Anche perché siamo in un momento storico molto particolare per quanto riguarda... Certo, molto particolare. Poi soprattutto perché siamo in un istituto alberghiero dove forniamo gli chef del futuro. Oltre a queste misose sono state altre, come quella sulla matematica informatizzata, l'inglese, e sono stati rilasciati attestati i triniti ai ragazzi che hanno potuto sostenere quindi un esame. Poi c'è un altro percorso che riguarda invece lo studio del territorio e quindi un momento di cultura vera e propria. I ragazzi hanno riscoperto il nostro territorio attraverso lo studio delle compraternite. E in questo momento c'è stata anche una presentazione... C'è una presentazione di un opusco, di un libro, le compraternite della città di Aversa, la storia delle compraternite. Accanto a questo c'è anche lo studio delle chiese che hanno ospitato le compraternite della città di Aversa. Infatti molte chiese all'origine erano proprio proprietà di queste compraternite. In realtà è stato fatto un vero e proprio censimento delle chiese solte sul territorio di Aversa. Ne abbiamo contate 99, sono quelle di cui abbiamo trovato dei riferimenti storici. Alcuni sono stati anche distrutti nell'arco del tempo, come ad esempio la Madonna dell'Olio, oppure la Madonna delle Grazie di Priano, epoca incesta, o ancora abbiamo trovato la Chiena di Sant'Andrea, la Madonna dell'Olio, come dicevo prima. Quindi uno studio approfondito e questo grazie anche al contributo di Don Michele Salato è stato il nostro supporto sul territorio Aversa. Stasera presentiamo i progetti realizzati nell'ambito dei PON, nella misura FSE 2009-2010, al centro del quale esiste e ruota la creazione dell'impresa virtuale. I ragazzi hanno costituito e avuto l'autorizzazione per l'esercizio dell'albergo virtuale Grand Hotel Cimarosa, intorno al quale ruotano tutte le attività che poi abbiamo realizzato con i PON, partendo dall'attività di tipo culturale, attività di tipo sulla sana alimentazione e l'attività anche musicale e teatrali. Quindi i ragazzi stasera si diletteranno in questo albergo nella presentazione delle attività organizzate e che offre alla clientela virtuale. Sì.